Sono 40 pullman nuovi a metano, quindi non inquinanti, che si aggiungono alla falotta che stiamo già rinnovando. Abbiamo preso un impegno col piano di sviluppo di GTT che abbiamo salvato da un momento molto difficile di crisi, che avremmo cambiato circa il 50% dei mezzi. Andiamo avanti. Questi mezzi andranno sulle linee 71, 55 e 12 e a gennaio avremo la gara per i pullman elettrici che si affianca a quella dei tram 73 nuovi che è già iniziata. L'investimento è ovviamente cofinanziato tra Regione e Comune e GTT e noi da nostra parte sono più di 11 milioni di euro. L'altra notizia è che comunque GTT torna a essere soggetto anche attivo sulle politiche del lavoro, per cui si sono stati già assunti degli autisti, ne verranno assunti anche altri e soprattutto torna alla normalità perché chiude i bilanci nei tempi, viene consolidato nel gruppo della città e torna a fare investimenti. Peraltro il trasporto pubblico nostro sarà anche fortemente concentrato sulla metro 2, come sapete, e quindi la progettazione vedrà anche un coinvolgimento di infratò comunque della nostra rete interna e quindi c'è tanto lavoro anche perché il trasporto pubblico ha bisogno di essere rilanciato. Per un anno molti cittadini ci chiedevano perché ancora Bus Diesel. Questi sono i primi nuovi a metano e da qui in avanti faremo solo acquisti ecologici. Quindi nell'anno nuovo vedremo molte novità, soprattutto per nuovi bus elettrici e nuovi bus a metano. Quindi è un rinnovo importante della flotta, sapete che abbiamo una flotta molto vetusta e questo rinnovo è molto molto importante per la qualità del servizio di trasporto pubblico.